Prima diceva che deve entrare dentro alla squadra per capirla meglio. Avrà due giocatori che ha già allenato in passato, Politano e Manolas. Sotto questo aspetto che contributo si attende da questi due ragazzi? Non lo debbono fare per me, lo debbono fare per loro, lo debbono fare per i suoi compagni di squadra. Mi aspetto che diano il massimo sempre e che siano sempre a disposizione per aiutare il compagno. Io voglio dire una cosa in generale a questi ragazzi sui contratti e su quello che i contratti ci fanno essere del Napoli per un numero di anni. In questo ambiente qui, a Napoli, le vittorie e i risultati che faremo possono farci entrare nella storia del Napoli per sempre. E questa è la differenza.